quindi più 13 più 13 più 13 il responso di questa giornata di campionato è il seguente più 13 che c'è da dire su questo Napoli sono curioso di capire un po' le scuse che troverete per giustificare tale pareggio scommetto che l'arrivitrofabbrica è nervosito la partita un pubblico un po' troppo calmo no poco presente anche allo stadio questo però è colpa della juve perché la juve sapete dietro c'è un complotto no per non far vincere lo scudetto al Napoli non c'è una squadra che è più superiore dell'altra non c'è un Napoli che perde punti per strada col chievo col toro eccetera no no c'è un complotto c'è un complotto che fa imbrigliare le gambe in signe che fa imbrigliare un po' le gambe anche a mertens a mili che così via ed è per questo motivo che il Napoli non vincerà mai lo scudetto ora tornando seri avete giocato in Europa League giovedì non avete secondo me la rosa per reggere queste due competizioni e rimanere altamente competitivi da una parte e dall'altra cioè per lo scudetto ragazzi ciao ok ve lo posso dire chiaramente non è presbocchia ma numericamente difficile solo la juventus può perderlo sono 13 punti sono un'enormità arrivati a questo punto del campionato voi state anche in Europa League secondo me dovreste puntare almeno a vincere quella perché altrimenti stagione con Ancelotti che tanto avete veramente ammirato e decantato al suo arrivo fallimentare stagione fallimentare questo video non è tanto per scherzo è per mostrarvi veramente la mia goduria perché dopo tutte quelle cazzate che tirate fuori in giro la juventus ruba questo questo e quell'altro non vi fate mai veramente un po di autocritica avete pareggiato oggi col toro toro che è una squadra che alla vostra portata è una buona squadra perché una buona squadra ma è assolutamente alla vostra portata per cui zero scuse questo scudetto che volevate vincere con Ancelotti e così via se lo perdete perché lo perderete non è colpa della juve che comanda è colpa solo vostra perché il vostro presidente non vi ha dato una rosa all'altezza e perché il vostro allenatore secondo me non è stato in grado di far meglio di Sarri questa ad oggi è la realtà per il resto ragazzi godiamoci questa giornata di campionato perché noi juventini poi dovremmo pensare all'Atletico Madrid ci vediamo domani con il video su cosa pensano i tifosi dell'Atletico e martedì per l'approfondimento tattico su come battere il ciolo Simeone approfondimento che ho fatto con Emilio passate una bellissima serata goduriosa sarà uno dei lunedì più dolci godetevelo tutto ciao a tutti ragazzi e sempre fino alla fine forza juve più tredici